Sindaco Chiappori, un tema di particolare attualità attualmente a Diano Marino e nei dintorni è quello dei migranti. Un incontro a Serreta dove pare che dovrebbero arrivare i primi profughi, ma si sa intanto quanti saranno, dove verranno collocati, se in previsione anche ulteriori arrivi dopo i primi che ci saranno? Tanto è un problema vero, però è un problema di cui ne ho già fin sopra i capelli, perché è un problema che non si risolve dal basso, si dovrebbe risolvere dall'alto e invece non lo fanno. I sindaci sono i parafulmini, come ho già detto mille volte, di manchevolezze di altre persone, manchevolezze di uno Stato che non li ferma, che non trova accordi, regioni che accettano comunque delle quantità e poi le quantità vengono riversate. Quindi per rispondere alla sua domanda, tanto dovrebbero essere 25 quelli che arrivano a Diano Marino, perché nel Dianese sono molti di più, sono circa un settantino, un'ottantina. 25 sono solo di Diano Marino. Ora, è del tutto evidente che le associazioni o le fondazioni che si occupano di questo tema cercano la disponibilità, perché come comuni nel tutto nel Dianese noi non abbiamo strutture per poterli ospitare. Quindi c'è una continua ricerca e questa ricerca è passata anche attraverso le canoniche, quindi la chiesa e quindi Seretta e Golleri, che sono due canoniche che non sono agibili, ma che sono state ristrutturate un po' di tempo fa e che la ristrutturazione non è finita. Quindi per andare lì bisogna comunque completare la ristrutturazione. Io ho fatto una riunione a Seretta per toccare il polso di quello che è la gente, quindi di essere informato per quando il prefetto ci chiamerà dicendo ma qui ci sono, perché questo non è ancora successo. Quindi aspettiamo che ci chiamino e la frazione di Seretta e di Golleri con anche un po' di paura e di fidenza, perché le risposte quanti ne arrivano, quanti si fermano, chi sono, non c'è mai una risposta, quindi è evidente che un po' di paura c'è e quindi la risposta è stata negativa. Però voi sapete perfettamente, i prefetti hanno l'autorità di poter fare quello che vogliono. Io dico sentendo comunque sempre le amministrazioni, i sindaci e la gente, quindi sensibilizzata la gente noi sapremmo dare una risposta, perlomeno di Anna Marina. Per quanto riguarda la sicurezza, si intende fare qualcosa come amministrazione? Si può fare qualche cosa per garantire comunque una vicinanza anche alle persone che abitano in quelle zone? Beh, io ho visto quello che è successo a San Marco Lomede, è stato un po' deludente, nel senso che questi sono stati messi vicino a una famiglia, un nonno e una nonna che accudiscono bambini e hanno creato un po' di scompensi. Non possiamo nasconderli, loro hanno, chi si è inventato questo sistema d'accoglienza, ha pensato di spalmarli per non farli vedere, io dico, loro dicono per sistemarli meglio, per far sì che possano vivere più decorosamente. Io dico che in 15 in un appartamento non si vive decorosamente. Comunque è così, la sicurezza è del tutto evidente, passa attraverso il fatto che se e domani, quando sarà, mai, arriveranno nel territorio di Diana Marina, io terò controllata la situazione e tanto verificherò dal punto di vista, se posso, naturalmente sanitario ma anche di provenienza le condizioni, ma soprattutto non permetterò, questo lo dico, l'ho già detto, l'ho preciso, perché non permetterò che venga nessuno senza lavorare nel nostro territorio. Cioè loro vengono, dovranno fare qualche cosa, non potranno oziare come stanno facendo a San Bartolomeo, cioè andando a giocare a pallone, andando al mare, dovranno integrarsi, integrarsi e per integrarsi significa lavorare per conto e per nome del comune e per la cittadina in cui vivono. Se non lo fanno io farò di tutto per mandarli via, perché accoglienza non significa dargli da mangiare, da bere e da dormire senza che facciano niente. Devono integrarsi e per integrarsi devono lavorare, non certo schiavizzandoli, ma lavorare, lavorare anche meno di quello che fanno gli italiani o quello che hanno fatto gli italiani fino adesso per rendere questo paese accettabile anche da loro che scappano. Io dico sempre che mio padre, ma per parlare persone magari un po' più importanti, di Pertini, che è stato un ligure diventato anche Presidente di questa Repubblica, hanno combattuto la grande battaglia di quella che doveva essere un sistema dittatoriale per poter avere poi un'Italia democratica. Io fossi al posto loro li combatterei a casa loro, i dittatori, non verrei qui aspettando che poi qualcuno glieli combatta là e nello stesso tempo non fare niente qua.